Il treno regionale 43-29 di Trenitalia delle ore 12.25 proveniente da Fossano è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 43-29 di Trenitalia delle ore 12.25 proveniente da Fossano è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Limone, stazione di Limone Il treno regionale 22-9-6-4 di Trenitalia, proveniente da Lentimiglia e diretto a Puglio delle ore 12.27 è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Grazie!